Musica Angroas, sei volcente di Sabroho in di Zimbaerde? Vi bacchonge hat kött da lesch botta, vor merane puntate vu Zimbaerde, varparren vuoi pass gons birte, vuodas no geat an. Di unificazion vuon servizi. Barbi San Mugueret, dei fatti che di provincia Botria bollat opinten alle di Klumannkamönder vodar provinz un lempanonder alle di servizi vodauusis sgar. Disa boch, sei barconte, zutreffa di drei pürgermeister vodusern, lavrau unvolgret, zutreffa, bassa hominzine zuttuana vodauusneileaute. Il percorso di servizi per le persone è ormai obbligato. La riforma dell'autonomia prevede in questi giorni, in cui si è arrivato, in cui si è coinvolto tutti i nostri ammatori. Questo è un'azienda di servizi per le persone che si è arrivato a tutti i servizi. Tutti i servizi per le persone che vogliono dare, alcuni hanno la potenza di servizi per le persone. ma spera che magari stanno così, stanno meglio e magari spaventano soldi. Sicuramente è che con molti servizi di marchio, in questo senso, che vogliono sostenere l'economia e l'efficienza dell'apparato amministrativo. In questa situazione, in questo modo, la risposta di persone che hanno, che hanno un'economia di Camau, in questo senso, in questo senso, in questo senso, in questo senso, in questo senso. Direi che stiamo andando un po' piano, anzi molto piano, perché già dovevamo aver adottato diverse gestioni associate, in particolare quelle dei tributi, in particolare quelle degli appalti e servizi, e purtroppo siamo in ritardo. Devo dire che abbiamo approvato la gestione associata della Polizia Municipale, così come pure quella dei servizi informatici, e recentemente abbiamo approvato anche la gestione associata del servizio Entrate. Adesso mi auguro che a breve entrino anche in funzione, perché l'atto politico è stato fatto, abbiamo deliberato in Consiglio Comunale. Ovviamente adesso c'è da parte dei segretari comunali di dare seguito a questa deliberazione e cercare di formalizzare, diciamo, il tutto. Io credo che i servizi associati in un certo qual modo sono l'anteprima di quella che dovrebbe essere l'unificazione dei comuni, ma soprattutto sono un meccanismo che deve indurre le tre realtà comunali di Luzerna, di Lavarone e di Fogaria, in collaborazione con la comunità di Valle, ad adottare quei meccanismi che possano portarci a migliorare quella che è la qualità dell'offerta nei confronti del cittadino e, dall'altro lato, anche alla razionalizzazione della spesa. Per l'anno 2015 sarà una sorta di anno di transizione. L'obiettivo è quello di non far aumentare sicuramente la spesa, ma farla semmai diminuire. In forma sperimentale, pur lasciando in questo momento i vari funzionari responsabili dei vari reparti di Luzerna, di Lavarone e di Fogaria, ottenere però poi un obiettivo che deve essere quello di fare sì che ci sia un soggetto di riferimento per ogni singola componente che va a caratterizzare le gestioni associate stesse. E dai servizi associati si passerà all'unificazione dei comuni? Ora, sappiamo che prima c'erano i compresori che sono nati dagli anni 60, fine anni 60, successivamente sono stati sostituiti dalle comunità. Le comunità dovevano essere quelle che un attimino mettevano insieme i comuni o perlomeno facevano da capofila per far sì che i servizi potessero essere effettuati su tutto il territorio in maniera pregevole e preciso. Non si è verificato, non a caso la riforma istituzionale è stata cambiata. Aggiungo che in provincia di Trento siamo in 530.000, che è poco più di un corposo quartiere di Milano, penso, e facciamo fatica a difendere anche la nostra autonomia. Aggiungo che sugli alti piani siamo 4.500 abitanti, una pulce della provincia di Trento. Prima o poi credo che sarà necessario sicuramente unificare i tre comuni perché credo che sia l'unica soluzione vantaggiosa che potrà veramente garantire un certo peso politico nei confronti della provincia e nello stesso tempo dare quei servizi necessari per tutta la popolazione. Ritiene che la comunità degli alti piani possa essere funzionale all'unificazione dei comuni o bisogna fare un ragionamento a parte? Ma io credo che la comunità degli alti piani, nella quale io ho creduto fin dall'inizio, non sia ancora decollata come dovrebbe essere. Io mi sento di farla questa critica in questo momento. Io ho sentito tanta teoria, abbiamo fatto quattro anni di discussione, ma realmente quello che stiamo mettendo in atto alla fine dipende dai tre comuni in termini di operatività vera e propria e il primo vero esperimento è quello che dicevamo prima, è proprio quello della gestione associata. Se la comunità di Valle non riceve dalla provincia determinate competenze come quella della gestione del proprio territorio, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista di una legiferazione anche un po' più autonoma perché noi le conosciamo nelle nostre località, sappiamo quali sono i pregi, quali sono i difetti, allora io credo che da quel punto di vista lì sia stata fatta una sorta di buco nell'acqua. Se viceversa arrivano delle competenze e c'è una gestione che crea un tipo di mentalità affinché ognuno che amministra, ma la popolazione stessa, si senta un po' più propria di determinati concetti, io una delle proposte che mi sentirei di fare è quella che determinate tassazioni, parliamo tanto della tassa di scopo, tassa di soggiorno, piuttosto di quelli che sono i tributi che i comuni incassino, bisognerebbe che una percentuale altissima di questi tributi rimanesse sul territorio, una forma di federalismo vero e proprio, venissero reinvestiti a livello locale nei servizi ai cittadini e credo che i nostri cittadini in quel momento, sapendo che fine fanno i loro risparmi in quel tipo di imposta, sarebbero un po' più consci del fatto che pagando l'imposto ottengano dei servizi e come tale non è una forma di egoismo, è un riappropriarsi anche di un fattore collegato al fatto che nel momento in cui investo anche i miei risparmi ricevo di ritorno dei servizi che mi servono per vivere meglio e migliorare soprattutto quella che è la qualità della vita, obiettivo al quale noi stiamo continuando a lavorare. La popolazione cosa ne pensa? Ma io devo dire, ne ho parlato anche ieri sera con diverse persone, io ho parlato con persone di Luserna piuttosto che con persone di Lavarone, persone di Folgaria, cominciano a sentire il problema e percepiscono proprio questo fatto che è molto importante e dirimente per il futuro. Ovvio che ci sono delle resistenze che sono abbastanza ataviche sul nostro territorio perché si sa che soprattutto tra Zomo e oltre Zomo c'è una grossa resistenza, però come dicevo ieri se non riusciamo a vincere queste resistenze noi rischiamo di diventare un appendice, noi, parlo di Lavarone, Luserna, un appendice della Val Sugana e Folgaria diventare un appendice della Vallagarina e credo che questo non convenga a nessuno, è meglio mettersi insieme, ovviamente bisognerà fare un bagno di umiltà, diventare umili e vedere veramente dove ci sono le necessità sul territorio e non sul singolo comune. Io credo che quello che dobbiamo fare noi è cercare innanzitutto di creare un ragionamento nei confronti anche dei nostri concittadini di quella che è l'eliminazione dei cosiddetti campanili. Io ho una realtà che si divide in 22 microfrazioni e vedo cosa vuol dire far ragionare l'una con l'altra. Dobbiamo far sì che fin dalla scuola i ragazzi crescano con una mentalità più omogenea, più comune. Dobbiamo far capire che probabilmente il pacchetto che offrono queste tre comunità assieme è un pacchetto complessivo che all'esterno piace perché ognuna ha una peculiarità che fusa con l'altra può rispondere a determinate esigenze. Finora c'è una grossa difficoltà anche nel semplice dialogo, siamo un po' troppo egoisti gli uni nei confronti degli altri e viceversa, ma anche a livello di contatto diretto fra le persone c'è ancora un po' troppo una forma di egoismo. Io credo che se ognuno credesse un po' di più in queste realtà, queste realtà hanno delle potenzialità enormi. È ovvio che la distanza che c'è non è delle migliori, è ovvio che magari abbiamo più apportato a noi la città di Rovereto piuttosto che l'Userna e la Varone, quella della Valsugana. Ma è anche ovvio che da un po' di tempo a questa parte cresciamo con una mentalità che deve sempre più avvicinarsi. Ma la tempistica la vedo abbastanza lunga. Abbiamo visto le esperienze dell'Alta Valdinone che non è andata a buon fine, perché mi sembra che a parte di Maro e Folgarida, dove è stato fatto il referendum e le cose sono andate per il verso giusto, ma negli altri casi dove è stato fatto questo referendum che la popolazione ha votato contro. Io credo che la popolazione va preparata, gli vanno spiegate tutte le varie motivazioni, magari si dovrà fare un sondaggio preliminare prima di giungere al referendum previsto peraltro dalla legge, per far sì appunto di unificare i nostri comuni. Beh, questi sono due percorsi diversi. Uno non è che tranne la sondazione. Anzi, io ritener che i comuni sono delle organizzazioni, dove sono delle leggi per noi, sono delle comuni, delle regioni, della provincia, ma anche del Stato. Allora, l'Alta Valdinone è l'espressione, la prima espressione della democrazia e, fin bene, l'Alta Valdinone è una buona espressione del territorio, è giusto che l'Alta Valdinone è stessa. Allora, l'Alta Valdinone è un servizio che si associano, è un servizio che si tratta di un ufficio di ragioneria, invece di un ufficio di contratti di appalti, un ufficio di personale. L'Alta Valdinone è un servizio che si tratta di risparire o che si tratta di diminuire l'autonomia politica. e, fin bene, non pensi che in direzione della fusione 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 della Fusione. E pensi che persone non sono pronti a fare un passaggio, non come administrazioni, ma anche 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 comunità. La Fusione è una questione che si tratta di rispondere. O così, è la Fusione della Fusione della Fusione delle persone che vivono in questo territorio e della Fusione. Integno di rispondere alle persone che vivono in questo campo, soprattutto per gli USA, per la loro storia e per la loro cultura. E per la loro душa. Voi questo bucho è gestalti per se nasce a un stavo da cinti, a un gruasso da cimba riede.